anche per tante altre persone, è un luogo che c'è a New Orleans, si chiama una piazza che si chiama Congo Square e pensate che lì è il luogo dove veniva concesso agli afroamericani ai tempi della schiavitù, veniva concesso loro di fare della musica solo lì, solo in Congo Square, solo la domenica notte in pratica e questo luogo c'è ancora appunto, si chiama Congo Square e lì avvenivano un po' quelle magie che sono del voodoo insomma, della musica Grazie a tutti 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 Roberto Stefani Grazie a tutti 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 Grazie a tutti